Il meccanismo era semplice. Quando i clienti quasi sempre ultraottantenni prelevavano lo sportello, il tassiere faceva firmare loro le contabili bancarie senza importo, per compilarle poi in un secondo momento con cifre superiori a quelle effettivamente richieste, riuscendo così ad intascare la differenza. Il servizio inoltre era fornito dal bancario anche a domicilio, nel caso in cui i clienti non fossero riusciti a recarsi in banca. In tali casi si presentava nelle abitazioni degli stessi per consegnare il denaro contante richiesto, necessario per le spese quotidiane. Anche in queste circostanze il sistema era sempre uguale e gli ignari clienti vedevano i loro conti correnti a sottigliarsi di giorno in giorno, a loro insaputa. Ma i finanziari del comando provinciale di Pesaro, al termine di un'articolata attività investigativa durata due anni, sono riusciti a smascherarlo. Il cassere della Banca Popolare di Ancona, Gruppo Ubi, Sportello Monte Cerignone della filiale di Macerata-Feldrea, sarebbe riuscito tra il 2009 e il 2012 a impossessarsi indebitamente di oltre 200 mila euro. Le investigazioni, dirette dal sostituto procuratore della Repubblica, Simonetta Catani, nel Tribunale di Urbino, si sono concluse con la denuncia dell'uomo ritenuto responsabile del reato di truffa e falsità.